Questo qui è il nuovo Apple AirTag, è un localizzatore bluetooth per i vostri oggetti più preziosi. Per aiutarvi a capire se un AirTag può essere un acquisto interessante per voi, vi andrò ad elencare 5 cose che l'AirTag vi consentirà di fare e sempre 5 cose che l'AirTag non vi consentirà di fare. Ovviamente partiamo dalle basi. Questo è un localizzatore, non è il primo della sua categoria, ce ne sono stati altri simili e le funzioni base sono fondamentalmente le stesse. In particolare con questo device potrete innanzitutto localizzare su una mappa gli oggetti che avete eventualmente smarrito o magari anche chi avete con voi. In sostanza basterà aprire l'app dov'è sul vostro iPhone e potrete tracciare tutti quei device che avete con voi o che avete lasciato a casa, al lavoro o magari anche smarrito. Così facendo potrete capire se magari avete con voi le chiavi che vi servono oppure se avete dimenticato il portafoglio a casa o in ufficio e già potrete farvi un'idea abbastanza precisa di dove andare a ritrovare questi oggetti. Tuttavia, ed è qui che subentra la particolarità di AirTag, se avete un iPhone 11 e un iPhone 12 potrete fare anche un'altra cosa. Cioè non solo potrete vedere sulla mappa più o meno dove si trova l'oggetto che avete smarrito, ma potrete anche raggiungerlo con precisione grazie al chip 1 che è integrato all'interno di AirTag e di iPhone 11 e 12, nonché dei prossimi modelli. Grazie infatti a questa funzionalità di navigazione precisa potrete ricevere delle indicazioni come fossero delle indicazioni stradali con tanto di freccia e distanza da percorrere per andare a riacchiappare il vostro AirTag e l'oggetto a cui lo avete allegato. Inoltre, mano a mano che vi avvicinerete all'oggetto smarrito, vedrete un cerchio sull'app dov'è che si restringerà sempre di più e simultaneamente riceverete delle vibrazioni sempre più forti sul vostro iPhone, fino a quando non sarete così vicini da trovare l'oggetto e di conseguenza l'AirTag. E cosa succede invece quando smarriamo ad esempio un portafoglio o lo zaino? Beh, noi potremo fare anche un'altra cosa con AirTag, potremo attivare la modalità smarrito. La modalità smarrito ci permetterà intanto di evitare che l'AirTag venga abbinato con un altro device, ma anche di attivare appunto una serie di funzionalità utili come la riproduzione di un suono, banalmente per far sentire a un'altra persona che dice un oggetto, oppure per aiutare noi stessi a rintracciarlo, ma potrete anche e soprattutto far sì che venga visualizzato il vostro numero di telefono all'interno di una pagina specifica del sito Apple. Chi troverà un AirTag potrà infatti scansionarlo come fosse un qualsiasi tag NFC avvicinando l'iPhone o anche un dispositivo Android e in automatico verrà aperta una pagina sul sito Apple in cui l'utente potrà leggere il messaggio che avete lasciato e mettersi in contatto con voi. Inoltre quando l'AirTag viene smarrito, ipotizziamo in un vagone della metro, potrete continuare a seguirlo e vi spiego come. Siccome il network dov'è che è lo stesso che userete per tracciare il vostro AirTag è ormai diffusissimo perché di prodotti Apple in giro ce n'è qualcuno, quando un altro prodotto Apple con un altro Apple ID viene a contatto con il nostro AirTag, l'AirTag e il prodotto Apple si scambieranno una serie di informazioni rapide e di conseguenza l'AirTag potrà essere localizzato tramite iCloud dal proprietario, proprio perché i dati dell'AirTag verranno comunque letti in forma anonima dal dispositivo che eventualmente entra nel raggio dell'AirTag trasferiti su iCloud e ritrasferiti appunto all'iPhone del proprietario. E ripeto il tutto con massima protezione dei dati e anche dei dati a consumo perché qualcuno mi ha chiesto ma così finisco i dati? No ragazzi si parla di pochissimi Kbyte che vengono scambiati quindi veramente nulla. Un'altra cosa che potete fare con AirTag è ovviamente abbinarli all'ampio ecosistema di accessori, ad esempio questo è un bellissimo loop in silicone, Apple produce anche un loop in pelle e dei portachiavi in pelle e in silicone, ma sicuramente il network anche di accessori verrà ampliato tantissimo nei prossimi mesi, ci sono già tantissimi accessori di terze parti che immaginano l'utilizzo di AirTag nei modi più disparati. Quindi date sempre un'occhiata sia al sito Apple che ad altri store perché sicuramente ci sarà un'esplosione di laccetti, cinturini, accessori vari per portare AirTag sempre con noi. E infine un'altra cosa importante che puoi fare con AirTag è personalizzarli sul sito Apple e questa cosa è molto utile. Me ne sono accorto ad esempio in questi giorni in cui ho utilizzato degli AirTag senza incisioni che tra loro non sono facilissimi da distinguere. Bisogna ogni volta aprire l'app dov'è, farlo suonare, identificarlo e poi capire. Invece andando ad incidere magari un emoji qui e lo potete fare esclusivamente dal sito Apple potrete facilmente riconoscere il prodotto a cui è abbinato AirTag semplicemente guardando l'icona che avete inciso sulla parte bianca che altrimenti sarà totalmente vuota. Mentre sul retro c'è invece questa parte in acciaio che tende un po' a graffiarsi, si sta graffiando forse un po' troppo ma purtroppo l'acciaio si graffia, su cui invece trovate il logo Apple. E piccola digressione poi passiamo alle cose che non possiamo fare con AirTag, qui c'è anche la batteria che è una tradizionale CR2032 che potete poi facilmente sostituire dopo un anno quando sarà scarica. Ok però passiamo alle cose che invece con AirTag non si possono fare perché mi sono arrivate diverse domande in cui mi chiedevate si può fare questo, si può fare quest'altro? Vi rispondo. In primo luogo no, questi device non sono dotati di GPS e la cosa non deve stupirvi perché in realtà sarebbe stato o perfettamente inutile oppure estremamente costoso sia in termini economici che di autonomia. Intanto il GPS ha un impatto sull'autonomia quindi avere un sensore GPS sempre costantemente attivo vi faceva dimenticare l'anno di autonomia, si sarebbe scesi forse a un mese nella migliore delle ipotesi e dopo soprattutto avere una batteria ricaricabile doveva poi alla fine spingerci a caricarlo ogni tanto e sarebbe venuto meno proprio il concetto dell'AirTag che tu lo butti in uno zaino, lo rendi il tuo portachiavi e te lo dimentichi almeno fino a quando non si scarica. Ma si scarica dopo un anno come dicevamo. Quindi intanto avrebbe avuto un impatto sull'autonomia ma poi avere un GPS non significa che quella posizione GPS venga costantemente comunicata all'app dov'è e al network iCloud. Infatti per fare questo sarebbe stata necessaria anche una sim card da inserire all'interno dell'AirTag con relativo piano tariffario. So soldi. Ci sono dei tracker GPS avanzati che fanno questo e fanno esattamente quello che ho descritto. Hanno il GPS e hanno la sim ma intanto costano più dell'AirTag e soprattutto hanno un costo di manutenzione più alto. Quindi no. Apple ha scelto di adottare una strategia un po' più semplice. L'AirTag costa 35 euro e vi basta avere un iPhone per farlo funzionare al pieno delle sue capacità ma non ha un GPS e non ha una sim card. Un'altra domanda che mi è stata fatta sugli AirTag è cosa succede se qualcuno ruba lo zaino e toglie l'AirTag. Ragazzi succede che l'AirTag non è più su quello zaino. Questo qui non è un dispositivo antifurto perché non basterà mettere lui in uno zaino per evitare che vi venga rubato lo zaino. Mi pare abbastanza ovvio. Pertanto il suo obiettivo è quello di farci ritrovare in primis gli oggetti persi come dicevo all'inizio. Con la complicità però di chi li dovesse trovare che dovrà avere la pazienza di scansionare l'AirTag e mettersi in contatto con chi ha perso quell'oggetto. Ma se questa persona non vorrà far quello e vorrà appropriarsi del vostro bene smarrito lo potrà fare. Non è un antifurto. Quindi no l'AirTag non può impedire che qualcuno vi rubi qualcosa. E se rubo l'AirTag di un amico posso collegarlo al mio device? No perché fino a quando non viene disabbinato dal precedente device questo non si può abbinare ad un altro device e ne consegue anche che non è possibile in alcun modo neanche per Apple accedere ai dati che gestisce l'AirTag. Perché infatti tutti i dati non passano fisicamente dall'AirTag ma vengono archiviati esclusivamente in modo criptato su iCloud. Quindi lui fisicamente non contiene informazioni e comunque è inaccessibile all'esterno. Quindi non preoccupatevi. E da ciò consegue anche che l'AirTag non può essere condiviso tra due Apple ID diversi. Quindi ognuno ha il suo Apple ID e ognuno collega il suo AirTag e lo usa esclusivamente con il suo iPhone. Non c'è al momento una funzione tipo in famiglia che consente di avere un AirTag condiviso tra più persone all'interno dello stesso nucleo familiare. E infine last but not least l'AirTag non consente di stalkerare gli amici. Infatti abbiamo anche provato a farlo ma è assolutamente impossibile perché una volta che l'AirTag viene separato per un certo periodo di tempo dal suo proprietario e viene portato per un certo periodo di tempo da un altro utente. Quest'ultimo verrà avvisato della presenza di un AirTag che non è il suo magari nello zaino, nella borsa, nella giacca perché l'AirTag inizierà ad emettere un suono. E come vi dicevo il suono è anche abbastanza forte. Quindi questa persona dovrebbe sentirlo, dovrebbe capire che ha un tracciatore addosso e che magari di conseguenza qualcuno sta usando questo per monitorare gli spostamenti di questa persona. Arriviamo però alle conclusioni. Apple AirTag non è sicuramente un prodotto per tutti ma dato il costo comunque risorio rispetto alla media dei prodotti Apple io direi compratene almeno uno, c'è il pack singolo che è meno conveniente del pack da quattro che vi regala quasi un AirTag ma prendetene uno, iniziate a sperimentare, vedete se vi trovate bene oppure no e poi valutate. Soprattutto se non avete mai avuto un localizzatore beh potreste scoprire nell'AirTag un prodotto veramente utile e ben fatto. E' sicuramente più consigliato a chi ha un iPhone 11, 12 o magari a chi comprerà i prossimi iPhone perché la navigazione di precisione è ciò che fa la differenza su questo dispositivo. Quindi è l'aspetto più innovativo e che gioca sul chip U1 chiara esclusiva di Apple e anche esclusiva di quei due modelli al momento. Se avete un iPhone precedente diciamo che il parco di prodotti simili si allarga di parecchio e ci sono anche soluzioni leggermente più economiche ma anche drammaticamente più costose. I casi di utilizzo sono veramente infiniti ma appunto da questo prodotto sapete ora cosa aspettarvi, sapete cosa potete fare con AirTag e cosa non potete fare. Quindi ne riconoscete i pregi e i limiti. Non vi resta da far altro che decidere se vale la pena acquistarlo oppure no. Ma qui io ho cercato di aiutarvi ma mi rendo conto di non esserci riuscito perché è una scelta estremamente soggettiva però il consiglio è ancora una volta quello di provarlo almeno nella versione singola così vi fate un'idea. Comunque se volete approfondire ma vi dico la verità non c'è tanto da approfondire questa volta AirTag vi lascio anche la recensione completa in descrizione in cui trovate qualche altro parere qualche altro commento sul nuovo localizzatore Apple. Noi ci risentiamo in ogni caso in un prossimo video. Ciao! 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 Ciao!